E' elegante questo mio agente professoressa, anche com'è elegante il suo sorriso, d'altronde sono sempre stato lavorato di lei e da questo punto di vista devo dire che è veramente piacevole osservare un rosso così gradato con i suoi occhi che sono tanto belli e poi questo naso che mi ricorda l'odore dei fiori, dei brati quando faccio il porca scuola, no, non faccio la scuola faccio mai, no, è uno scherzo e poi ancora con lei vorrei in qualche modo navigare in questa veramente male, i profumi che ama e poi la bocca, quella bocca sensuale, no, la bocca è piena, la bocca ed è così sensuale, così buono, così largo con l'empatazione e il rispetto, buonissimo Grazie 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 Grazie